Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Spero bene. Allora, in questi giorni sono stato parecchio assente, perché non sapevo più cosa caricare e qualche giorno fa ho visto strappare lungo i bordi ed è una serie veramente fantastica. Ci farò molto probabilmente la recensione, anzi farò la recensione di tutti gli episodi, tutti e sei gli episodi se sbaglio e davvero mi ha sorpreso davvero tanto il fatto che rispetto alle scene di film che ho montato, tipo la licea del 99, Kipo o alcuni film di Anya Taylor, non hanno mai avuto così tante visualizzazioni rispetto a Zero Calcare. Cioè Zero Calcare ha avuto sui cento, cinquecento, sui miliardi di visualizzazioni e su questo io vi devo un ringraziamento proprio dal cuore, alla occhi del cuore. Gli occhi del cuore, gli occhi del cuore, Boris Vabbè battuta a parte Tanto Watchmen ci fa altri spoiler Perché oggi Una cosa abbastanza stronza Che ha fatto Wikipedia Io non ho scoperto niente A parte YouTube Che ha fatto un video Non voglio dire nulla ma Wikipedia Ha già spoilerato qualcosina Quella italiana Ha già spoilerato qualcosina Ma non voglio dire cos'è Non voglio dire cos'è Non lo voglio dire perché altrimenti Vi rivenerai la sorpresa E lo stream E New Way Home non è neanche uscito su streaming È passato più o meno qualche giorno da quando è uscito E io e mia sorella non l'abbiamo ancora visto Non sappiamo come sarà E Io sinceramente ho un po' di paura Perché sono preoccupato per Peter E In questi giorni mi sono anche visto La seconda stagione di Santa Guarda che ovviamente Qualcuno mi ha chiesto ripostare Una delle canzoni Della seconda stagione Però Anche se l'ho detto nei commenti Ve lo ripeto Con molto Con molto piacere Ho detto quel papro Così o meno potete provare Ad avere una video È caduta Aspettate un attimo Ecco qua Prima volta senza telefono eh Potrei fare così tutti i giorni Tutti i giorni praticamente Comunque Stavo per dire Santa World Per qualche strano motivo Non ha uno streaming italiano Per quanto sia uscito su Netflix Ed è italiano Non c'è da nessun'altra parte Ho cercato su Euro streaming E non c'era Ho cercato su Un altro Euro streaming E non c'era Ho cercato su altri siti E non c'era Neanche in inglese C'è Per scaricare Tipo Avevo solo scaricato La prima stagione Che era su Ninja Shader Ma Ninja Shader Per qualche motivo Si è cancellato Per qualche strano motivo Gli streaming In cui vado Praticamente si cancellano Anche I siti che prendono i film Si cancellano Praticamente tutti Dimmi Ditemi voi Se non è un colpo di sfiga È un colpo di sfiga questo Io non ho parole Comunque Non so se riuscirò a prendere Anche la seconda stagione Per farci un video Dato che non esiste La versione italiana Della serie di Centerworld Vorrei che esistesse così Perché almeno potrei postarvi Le scene che volete Tipo quella Del passato di Wammoink Oppure Cavallo che è per Damazzone Potrei anche farvele Però In Italia Cioè Lo streaming italiano Non si riesce A trovare Non si trova da nessuna parte Solo chi Posso non riuscire a trovarlo E anche la serie Sfortunati eventi Eccetera Ma quella Ma quella Non è importante Però voi volete Centerworld Centerworld Purtroppo non c'è Sugli streaming italiani E mi dispiace Mi dispiace Perché volevi davvero Farvi dei video Di Centerworld Ma non posso Non posso farvi Non posso mostrarvelo Non posso farvi delle clip L'unica cosa che posso fare Semmai Provare A prendere Quelle canzoni Italiane Le poche Che troverò Su Youtube E proverò A farci un video Su quelle Con quelle Perché Per qualche strano motivo Non riesco a trovare Lo streaming italiano Non riesco a trovarlo A meno che Non si riesci da Netflix A renderlo pubblico E così Togliamo la tastata d'oro Oppure Dovrò seriamente Trovare un altro modo Non so neanche come abbia fatto Quello Youtuber Delle multilingue Ad avere le altre lingue Cioè mi sembra un po' Strano Ho anche visto Ultima notte a suo Ed è stato spettacolare Ma Ha avuto qualche difettuccio Tipo C'aveva qualche scena divertente Poi ho visto Il nuovo film di Mario Academia Molto bello Però L'unico Problema Che ho avuto È forse la trama Perché All'inizio L'avevano annunciato Come se fosse Un film Baku Tododeku Baku Tododeku Un film Baku Tododeku L'avevano annunciato All'inizio Come se fosse Un film Baku Tododeku Poi arriva Il nuovo personaggio Rodisol E a caso Non a caso Però Diventa Un road movie Alla De La Sovasa Alla Logan Eccetera E Il road movie È durato fin troppo poco Sì C'è stata l'azione Ed è anche Bella figa Ma il road movie È durato fin troppo poco Lo so che è un spoiler Però Non è davvero grande Come spoiler Il road movie È durato poco Il rapporto Tra Roddy E Deku Si vede Tokoyami Ovviamente Si è visto Poco Ed io Perché Ed io Perché Devi sempre Fissarti Con quel cazzo Di Tokoyami Ha sempre Sta faccia Del cazzo Che sembra Volerti Uccidetemi Alla svelta Cioè Non Scusate raga E Sono troppo Fissato Conto Koyami Non so Perché Forse Perché È figo Ma Però Nessuno Lo vuole Render Il protagonista C'è proprio Io Con la fiction Guarda Con una fiction Guarda E Ho visto Anche Encanto Bellissimo Film Il 24 Dicembre Arriverà Su Disney Plus Ve lo dico Io Disney Plus Ma sempre Disney Plus Come se volesse Di Sono Disney Plus E vorrei Farmi Qualcuno Cioè Per qualche motivo La pubblicità Di Disney Plus Usa sempre Sta voce Che sembra Voler dire Qualunque Cosa Tranne Disney Plus Disney Plus Dice sempre Così In uscita Su Disney Plus Cioè Plus È un po' Strano Però Comunque Beh È stato Bellissimo In canto La protagonista I personaggi Tutto Meglio Di Raya Comunque Raya Faceva cagare Mi ha fatto Schifo E Cosa Molto Più Importante Io e mia sorella Abbiamo intenzione Di vedere West Side Story Il nuovo film Di Steven Spielberg E non sappiamo Come sarà Dato che il GGG Era carino Però La regia Faceva schifo E riguardando E riguardando Un video Di Quale cazzo Si chiama Quel tizio Inglese Vabbè Acqua Ha anche Qualche Problema Di sceneggiatura Ma per me Il problema Più grosso Di quel film Era la La regia Perché Faceva troppo Schifo Inquadrature Volanti Così a caso E poi Parecchia roba Ma sceneggiatura Forse Forse Ci stava Ma Anche qualche Difetto Pure lì Tipo Perché il GGG Tiene Sofì Con sé Quando poi Più avanti La riporta All'alfantrofio Non ha senso Sto cosa Così come Anche Sofì Come fa Ah sì Lo dice Però È un po' Stupido Non lo so Cosa pensai Di West Side Story E Ovviamente Sono andato In questa nuova scuola È È abbastanza Pallosa Cioè Non è come Le altre scuole Che ho frequentato Che almeno Vodibili Ti facevano Un po' divertire Questa è proprio Pallosa Non sto imparando Niente Però Aspetterò Che quest'anno Finisca E Mi dedico A le recensioni Cioè Mi dedicherei Alle recensioni E infatti Piccolo annuncio Ho intenzione Di fare La mia Prima Vera Recensione Alla Mighty Pirate E Flame Decidete Quale sarà Fra La Alice Del 1999 The Lion Guard Il ritorno del ruggito The Witch Il primo film Di Annette La Joy Allora Per ora Questi tre Cioè La Alice 1999 Beh La In Guard Il ritorno del ruggito Beh The Witch The Witch Il primo film Di Anya Taylor Split Che bellissimo split O l'intera serie Di Zero Calcare Decidete voi Sotto nei commenti Io Farò Deciderò Tra questi titoli Aiutato ovviamente La mia sorella Decideremo insieme E niente Il prossimo video Molto probabilmente Sarà La mia prima Recensione Alla Mighty Pirate E Devo prima Devo ovviamente Preparare Lo script Devo preparare La telecamera Devo preparare L'outfit adatto Perché questo pigiamo Ormai non si può più Vedere E Niente Spero che Vi piaccia Questa decisione Che ho fatto No No Aspetta Porca Spero che Vi piaccia Il mio nome Cioè Cosa sono diventato In questi ultimi anni Tipo Le scene di film O gli sfoghi Che faccio ogni tanto Con voi Perché mi fa piacere Parlare ogni tanto Con voi E Ma soprattutto Scrivetemi nei commenti Cosa volete Ripeto l'elenco Per chi non l'avesse capito Ma anche se l'avete capito Vorrei ricordarmelo Meglio io L'alice del 99 The Lion Guard The Witch Split O l'intera serie Di Zero Calcare Decidete voi Sotto nei commenti E noi ci vediamo Al prossimo video Che non so quando sarà Ma ci sarò Ciao